Chi sarà il successore di Sergio Mattarella? Al momento, nel primo giorno di elezioni per il nuovo capo dello Stato, non c'è un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza e si stima che prima di giovedì o venerdì non si troverà la quadra. Per le Marche, oltre ai parlamentari, voteranno anche i cosiddetti grandi elettori, che sono tre, il presidente della regione Francesco Acquaroli, il presidente del Consiglio Latini e il capogruppo PD Mangialardi. Dopo il ritiro di Berlusconi, il centrodestra annuncia una rossa di nomi di alto livello e c'è attesa per il risultato dell'incontro tra Salvini e Letta, ma anche per l'assemblea e degli altri partiti. Il segretario del PD rilancia l'ipotesi del Mattarella bis, ma al centrosinistra e ai 5 Stelle piace anche Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. In questo primo giorno di voto abbiamo chiesto ai sanbenedettesi chi vedono favorito per la corsa al colle e, se ci sarà spazio, per la prima donna presidente. Io penso di non avere la soluzione che non hanno nemmeno loro, sinceramente. Alla fine penso che se non si trovano altre situazioni, ma mi sembra che lui abbia già detto che non è disposto, quindi sono curiosa di vedere come andrà a finire. Non vedo dei volti magari che mi rappresentano ascoltando così i talk, dicevano la presidente del Senato, che potrebbe essere un volto papabile. Sinceramente non ci ho pensato proprio, non ci ho pensato. No, non saprei a chi. Berlusconi che ci do fa? Che ci do fa Berlusconi? No, mi piace, mi piaceva. Silvio no. Eh, non mi piace. Mattarella. Non lo so, forse Letta, forse. Invece un volto femminile? Eh, la fine è chiaro. Bersani è l'unico coppia, cosa vogliamo mettere? Beh. I condannati? No, li doverò.